Davide Genovese 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 e che però nell'ultima domenica si è rivelato uno dei più positivi in attacco. Sì, Chino non è mai stato all'inizio perché si era infortunato subito prima del Torino, anzi dopo il Torino se non sbaglio. È un attaccante che insieme a Mastro Cicco in questo momento formano una coppia noiosa per gli avversari perché sono due disturbatori, due magari non tecnicamente eccelsi, però molto rabbiosi davanti, molto vogliosi di recuperare la palla, di andare ad attaccare gli spazi. Dicevamo un po' di tempo fa un campionato che sotto l'aspetto tecnico ti ha un po' deluso, forse ti aspettavi un po' più squadra che giocassero a calcio. Sì, io ripeto, quello che ho visto finora è l'unica squadra che mi ha impressionato è stato il Torino. Poi le altre squadre, anche quelle più blasonate di Serie A, hanno sicuramente delle individualità superiori alle nostre, però vedo poca voglia di rischiare, poca voglia di giocare a calcio, tanti bei discorsi che senti nelle federazioni, senti dai allenatori più blasonati, ma poi stringi stringi, vedo delle palle lunghe a corcia, palla lunga a corcia, quindi pensavo meglio, sinceramente. Una domenica si riposa, poi ancora una giornata contro la Sampdoria per terminare il gelone di andate, poi una lunga sosta. Hai previsto un lavoro particolare durante questa sosta natalizia oppure continuerete allenamenti regolarmente? Ma noi abbiamo già iniziato oggi a fare un lavoro diverso, perché anzi già ieri, poi oggi, domani e venerdì sarà una settimana tutta particolare, perché poi abbiamo la sosta e poi faremo quello che abbiamo sempre fatto con Jacopo Refi tutti gli anni, dal 27 al 29 facciamo un piccolo richiamo, quest'anno lo faremo forse anche un po' più lungo, perché riprendiamo il 13, ma noi più o meno ci alleniamo sempre al suo modo, la squadra si allenava molto bene, con intensità alte, anche oggi hanno fatto un ottimo allenamento, quindi da quel punto di vista lì sono contentissimo, è bello vederli allenare. Sotto l'aspetto della crescita, dicevamo una squadra che è cresciuta molto in questo gelone d'andata, cosa ti aspetti per il ritorno dopo aver visto anche appunto il valore degli avversari? Mi aspetto che innanzitutto di recuperare qualche punto che abbiamo lasciato per strada, perché vuoi per inesperienza e vuoi per poca fortuna, ma comunque quando hai poca fortuna è perché probabilmente la coperta non è ancora ben distesa, e quindi i tasselli ora stanno andando a posto e speriamo appunto di recuperarli questi punti. Quindi da qui alla fine del campionato ti aspetta appunto un'altra classifica insomma alla fine? Sì, beh io me lo spero per loro, io sono appagato nel vederli allenare in settimana, dico la verità, poi capisco che fa piacere vincere perché si lavora meglio in settimana e fa piacere a tutti vincere, perché poi però io per me è importante vederli in costante crescita e io vedo singolarmente che sono in costante crescita. Grazie miss. Grazie a voi.